Come on! Meglio Ok, not bad Lì casca tutte Oh, che cazzo succede? Spadapim! Spadapem! Oh, liscio! Liscissimo Mi sa che devo da morire Oppure faccio... Così Ok Sarebbe stato figo se mi fosse riuscito in volo Oddio Ce la faccio, ce la faccio Yes, ce l'ho fatta Vai Twinkie! Uhu! Uhu! Olè! Eccoci qua Allora Chiudetevi, stronzoni Qui c'è melma Melma atomica Melma, melma! Ok Adesso qui possiamo notare che Cascchiera U Ah, ok Sì Alle volte c'è dentro anche spazzatura Din 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 Sì Molto bene L'acchiappo L'acchiappo No No Ah, non serve per il test? Va bene Ah, ecco il cubo Vai 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 cobozzo Bin Bin A parte che potevo metterlo qui da qualche parte Ma va bene lo stesso Hoppela Presa il volo Allora Andiamo a cioccare la situation Non vedo Non vedo Nessuna Via di uscita Oh Boh Boh Ok Ah, ma eccolo là Facciamo così Riuscirò poi a sparare via Qui ce n'è uno di questi Se poffa Se poffa Ma posso buttare questa? Splash Magari Prendiamo meglio la mira Vediamo Beh, dovrebbe esserci Vediamo un po' che succede se faccio così No, non cadere piccolo Twinkie Olè Perfetto Very good Era una metafora Si riferiva a me con la spazzatura Sì, era abbastanza scontata Mia cara Erminio Dai, dai, dai Andiamo avanti Sì Chiamarti di spazzatura un'altra volta Quanto chiacchiera sta tizia Eccoci qua Non sapevi che le persone si Con la coscienza sporca si allarmano Quando sentono rumori forti Non so come mai si sia attivata Eh, sì, immagino Lasalore Uh, il cubo buono No No, sei una merda GLaDOS sei una merdona Dov'è? Oh, grazie cara Ma 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 Sei cattivissimo Nel mio cubo Oh, meno male Questo funziona Adesso che ci posso fare? Eh Dove Dove DOVÈ WAT Dove Minchia Oh ma laggiù c'è Il saule No Ah, ok Ma era Molto Semplice Molto Estremamente Molto Palam Salam Salam Ok Molto pine Devo andare di qua Quindi Facciamo così E così Via Oh ma ci serve il caubo Quindi devo Prendere il caubo Buttarmica dentro Voilà E poi buttarmici Con la rincorsina Siamo pronti siamo caldi Via E voilà Niente di più facile Ok E adesso facciamo le contraire Via Twinkie Yeppla Victorious Ogni camera test è dotata di una griglia di emancipazione All'uscita per impedire gli oggetti di asportare I soggetti di asportare furtivamente oggetti Dall'area di test Però è rotta Non portare nulla con te No voglio portare qualcosa con me invece Posso portare con me qualcosa? Riesco a prenderla? No Vabbè Allora non porto niente con me No non mi va Andiamo Qui non c'è niente Sbroccoliamo dentro Bene 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 Nuovo test Nuova camera Vediamo l'area Vediamo l'area di emancipazione Sì va bene Va benissimo Eccola qua Perfetto Molto bene Qui c'è un bauco Voilà Voilà Andiamo a spizzare la situation qui nel bauco Che succede Vediamo dove ci porta Di nuovo le turbine Devo andare Aspetto per questo test È necessario Qualche spiegazione Vi farò un riassunto breve Sì? Sì sì Va bene Sei una stronzona Glados Sei una piece of shit Ok Ok Done Riusciamo Vediamo un po' che è successo Oh la porta si è aperta Andiamo Mi preoccupa la frase sui reattori Più che altro Quali reattori? E quanto sono grandi? E soprattutto Quanto grande è il botto Che fanno quando esplodono? Arrivederci Eccoci qua Capitolo 3 Il ritorno Tutto bene? Sì? Ok Voglio mettermi qua dentro State bene? Sì Posso morire? No non mi fa morire Che palle Stage 9 Andiamo a vedere Oh mamma mao Voodoo Oh a bello Sta inviando un segnale di allarme L'hai rotta non è vero? Riproviamo Ah bello Evidentemente questa piattaforma è stata regolata per sostenere una persona dalle forme così generose Aggiungerò qualche zero al peso massimo A bastarda Sì però dove devo andare? Cioè nel senso dovrei spararmi da qualche parte Un maledetto uccello A quanto pare avesse incrisi le sue capacità sostieni peso Abbasserò il soffitto Dai Perfetto Allora ecco là Ed eccoci qui Vai Twinkie Very well Allora 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 Diamo un occhio Perché anche l'occhio vuole la sua parte Sì molto pine Allora io direi di fare Una cosina così tipo Per andare a vedere là sopra Ma qua giù non c'è un salto della fede Interessantone Molto interessante Lì c'è un botton Quindi quando siamo in queste situazioni Ci sfugge qualcosa Dobbiamo Ah ma che scema Che scema Che scema Lì E là Dobbiamo usare la piattaforma Molto semplice Mont Vai Twinkie Eccoci qua Allora che fa sto coso Fa cascare un cubozzo di compagnia Molto piene Non ci resta che fare la stessa identica cosa dall'altra parte Vai Così Ah io testata Che botta Ok no Cubo deflettore Di mio nonno Aiaiaia Dall'altra parte Stronzissimo Ok Beh questa è una cazzata Molto semplice Lo mettiamo di qui Lo mettiamo di là Liscio Perfetto Cosa accade? Cosa sta accadendolo? Si sono tirate su delle cosine Vediamo se lo leviamo Ah no Semplicemente si apre la porta Liscio Liscio Ok perfetto Ora come andiamo laggiù? Come andiamo laggiù? Lì che c'è? Come andiamo laggiù? Mmm Dun 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 Non vedo la nostra via di fuga Ah eccola Che sciocca che sono Quindi Facciamo Così Così Prima saliamo su Oppela E poi spariamo Di qua Fendi l'area maestosa Come un'aquila Alla guida di un dirigibile Ah Testina da bacchio Che non sei altro Stupida Kratos Eccoci qua Abbiamo fatto Ta 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 Bine 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 Dai smetti questi rifiuti industriali Nuovo test Sì sì vabbè Sempre a dire solite cazzate A vista il dino Lo sanno tutti In questa ambientazione Segue coso Che è qua roba? Ah è un nostro cubozzo Oh 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 What the fuck Oh ma questa è bella ampia Come mappa Allora Molto probabilmente Noi dobbiamo Spostare questa Questa si sposta Levando questo laserone Quindi 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 In di coscia Andiamo per di qua Lì c'è un cubozzo Che potrebbe fare Al caso nostro Tutto bene? Va benissimo Tutto regolare Qua che cosa c'è? C'è un salto Chi era quel rumore? Andiamo dall'altra parte A vedere Perché qui non mi sembra Scorgere soluzioni Ai nostri problemi Andiamo di qua Qui ci abbiamo No qui ci abbiamo Soltanto la conseguenza Di quell'altro Quindi questa qui Tecnicamente È la via di fuga Allora c'è qualcosa Che ci sfugge Da di là Ad esempio Quella parete è lì Facciamo così Facciamo così E ci buttiamo Te l'ho preso dalle mani Brutta zozza Ok 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 No devo prenderlo Via Perfetto Zompettiamo Zompiamo Woohoo E chiudiamo qua L'accesso al laserone Perfetto Sembra funzionare Alla sdragande Ritorniamo sulla piattaforma E facciamoci lanciare Spim Spim Ok Questo è evidente Che dobbiamo levarlo Dalla minchia No 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 Non sembra evidente Ma se faccio questo Si leva quell'altro Eh Oh Viene qua Bello E adesso che ci fa Ah no 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 Sono due diversi Ci devo mandare il laserone Allora Se riscendiamo di sotto Non posso farlo Quindi facciamolo così Facciamo così Così Qual è che ho usato Il blé Quindi Leviamo questo Prendiamo questo E voilà Adesso ci ributtiamo E rifacciamo tutto A le contere Facciamo Che diavolo Beh questo è Questo è molto piacevole Da fare Quindi facciamo così Qua sopra c'è dell'acqua Non ci interessi Da dov'è che casca il caubo? Il caubo dovrebbe cascare da di qui Se io faccio Così Non funziona Ma c'è tipo un qualcosa Che lo fai No Se invece faccio così No Così 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 C'è un perdugio di qua Eheh Eeeh Facciamo così No cubo Torna qui Ok perfetto Allora siamo in questa situation Facciamo così Prendiamo il nostro caubo Andiamo a posizionarlo Ah minchia Non lo dobbiamo posizionare qua Lo dobbiamo mettere Lassù 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 Significa Qui Perfetto Quindi Sbroccoliamo qua dentro Andiamo qui Sta calmo Non titubare Ignazio Ok Facciamo così Ritorniamo da dove eravamo venuti Parapim E abbiamo Fando Very well Stiamo andando alla stragrande Yes Si guarda Herminio non ti ascolto più Oh un ciccione No dove vai Ragazzotti Io vi salustro qui Ci vediamo alla prossima puntata Di Portal Ciao a tutti da Marco Scron 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 Ciao a tutti da Marco Scron